Altri tre casi di lingua blu, questa volta a Vallo della Lucania. Il sindaco Antonio Aloia, a seguito della segnalazione dell'unità operativa veterinaria del distretto sanitario 70 dell'Asra di Salerno, con cui vengono attestati casi accertati e sospetti di febbre catarrale in tre ovini, ha ordinato al titolare di un allevamento in località chiusa delle grotte l'adozione e l'osservazione di specifiche prescrizioni, affinché sia rispettata la necessaria profilassi e si eviti l'epidemia. Aloia ha ordinato il sequestro sanitario di tutti i bovini, bufalini, ovini e caprini presenti in azienda e ha vietato qualsiasi movimento dai per l'azienda, salvo se autorizzati per la macellazione. Inoltre, mentre gli animali risultati infetti dovranno essere isolati in un ricovero separato fino alla loro macellazione o al loro abbattimento, bisognerà effettuare il censimento ufficiale di tutti i capi di bestiame, con indicazione per ciascuna specie del numero di animali già morti, infetti o suscettibili di esserlo e il censimento dei luoghi che possono favorire la sopravvivenza del vettore. I fete e gli animali nati morti o morti subito dopo la nascita dovranno essere immediatamente distrutti o eliminati. I pascoli utilizzati dai capi infetti potranno essere riutilizzati soltanto 60 giorni dopo l'allontanamento degli stessi, mentre la stalla e gli altri locali di ricovero dovranno essere adeguatamente disinfettati. Stesso procedimento è prescritto per il letame proveniente dai ricoveri utilizzati dagli animali. L'ordinanza coinvolge anche eventuali cani presenti nell'allevamento e risultati positivi alle prove che dovranno essere isolati in un canile o in un ricovero per cani per un periodo non inferiore a tre mesi. È una malattia dei ruminanti, ne sono colpiti bovini, ovini e caprini. È una malattia che non porta a nessun problema per l'uomo, assolutamente. Vogliamo tranquillizzare? Sì, non c'è problema, perché è una malattia portata dal vettore e una mosca e non è trasmissibile tra animale e animale. Se una pecora, una capra, una mucca ha la lingua blu e sta insieme con le altre, se non è il vettore, quindi sta mosca che la punge, la malattia resta... Sì, una mosca che punge l'animale... Sì, che è il vettore che porta poi questo virus, il virus della bletango o lingua blu. Ma gli animali si curano normalmente con antibiote. E allora il sequestro? Questo me lo domando anch'io, perché c'è divieto di movimentazione, di fatti alla fiera del Canalonga non potremmo fare l'esposizione delle capre, perché c'è il sequestro e c'è la proibizione della movimentazione. E' una malattia, ripeto, che il latte di un animale a feto è buono. E' chiaro che se c'è la febbre, tutti gli animali che hanno la febbre fanno del latte che comunque non è buono, però non c'entra la lingua blu. Nessun allarmismo, tranquillizziamo gli utenti, insomma, ecco, dei sequestri puramente precauzionali, ma è un fenomeno che si sta verificando solo nel nostro territorio? No, io lavorando al distretto di Sapri, ho dei casi a Camerota, a Centola, ma nelle parti basse, cioè dove fa più caldo, su in quota, questa mosca. Poi se si chiudono gli animali in ricoveri dotati di zanzariere, perché questa mosca è attiva dal tramonto all'alba, in una stalla con zanzariere. Possiamo dare dei suggerimenti anche agli allevatori? Ma lo sanno già, perché poi i servizi veterinari su questo sono molto attenti. Se lei parla con un allevatore, sa benissimo quello che deve fare. Ma ripeto, non è trasmissibile all'uomo, oltretutto, quindi tranquilli. Potete continuare a mangiare carne di capra, alla fiera di Cana Longa, e poi il formaggio di pecore, di capra, di mucca, tranquillamente, senza problemi.